Il comparto edilizia nutre una grande attività, una priorità importante a livello globale, a livello mondiale. Ricopre il 90% delle gestioni di tutte le attività produttive territoriali. Abbiamo necessità di dare supporto al comparto edile. Oggi la nostra Confederazione CIFA darà attività di formazione e informazione sulle nuove procedure, sulla patente appunti e disposizione di legge del marzo 2024 itinerante. Quindi lavoriamo su questo tipo di attività. La sicurezza del lavoro è molto importante per tutti. È un sistema di attività sociale che quindi è importante per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori ma anche per le imprese. Perché la sicurezza sul lavoro è uno stimolo che devono avere le imprese affinché le persone che arrivano nel lavoro per loro di diano il loro contributo a far sì che tutte le persone lavorino in estrema sicurezza. Sì, noi accettiamo sempre ben volentieri gli inviti che ci pervengono da parte di tutte le associazioni di categoria. Accettiamo volentieri anche oggi l'invito del Presidente della CIFA che vede coinvolto in prima persona non solo l'organo istituzionale qual è l'ispettorato del lavoro ma anche il nucleo carabinieri oggi da me rappresentato che fa parte integrante dell'ispettorato del lavoro. L'attività di vigilanza in questo momento storico nella provincia di Trapani è proprio demandata ai carabinieri purtroppo per la mancanza cronica di personale civile per cui siamo in prima linea, cerchiamo di essere presenti, cerchiamo sempre di soddisfare tutte le richieste di intervento che pervengono da parte dei lavoratori e soprattutto dare corso e dare seguito alle richieste che pervengono da parte dell'autorità giudiziaria per far fronte ad avere infortuni che ahimè nella provincia di Trapani e come del resto poi in tutta Italia. Oggi parlerò soprattutto della formazione perché la Regione Sicilia ha fatto un decreto assessoriale la 1432 del 2019 in cui lo Spresal, l'organo di vigilanza, si deve occupare della verifica di tutti gli enti di formazione che siano idonei per poter effettuare la formazione. Quindi tutto quello che riguarda la formazione dei luoghi di lavoro, prima passa da lo Spresal che verifica nella commissione in cui io faccio parte assieme ad altri due tecnici della prevenzione che valutiamo giornalmente tutto quello che riguarda l'attività di formativa e soprattutto se i docenti sono idonei a progettazione.